Personaggi, disabilità, cultura, folklore, etnia e genere. Ci pensi quando scrivi? Benvenuta o benvenuto a questo nuovo episodio di Script Anatomy scrivere con il corpo. L'organo di oggi è il cuore. Parleremo quindi di creatività inclusiva. Ciò di cui vorrei parlare oggi è l'importanza di imparare a porsi delle domande e a rendersi conto di ciò che stiamo guardando o scrivendo e vorrei concentrarmi sulla creazione dei personaggi. Creare personaggi tridimensionali è una chiave fondamentale per scrivere storie che possano risuonare con le persone giuste. I personaggi hanno un loro background culturale, paure e ferite, obiettivi e convinzioni e al contempo è importante assegnare loro anche un contesto socioculturale ben definito in cui sono cresciuti. Vorrei che tu provassi a selezionare un film che ami e provare ad analizzarne i personaggi e i loro ruoli. Il numero di personaggi femminili e maschili è bilanciato? Se non lo è, riesci a capire la motivazione? Che ruoli ricoprono rispettivamente e come vengono introdotti allo spettatore? Ma soprattutto sapresti identificare almeno tre tipi diversi di etnie? o quanti personaggi con disabilità di qualsiasi tipo sono rappresentati e che ruoli ricoprono? Infine, come viene esposta invece l'identità di genere e gli eventuali orientamenti sessuali dei personaggi? Certamente dipende moltissimo da film a film, da storia a storia, dai temi che vuoi trattare, dal genere cinematografico. Ma nel momento in cui stai dando vita ai tuoi personaggi, stai veramente colorando e rendendo tridimensionale il tuo mondo narrativo. Non temere quindi di utilizzare quanti più colori possibile. Tra i personaggi che hai creato per la tua storia, c'è qualcuno che soffre, ad esempio, di diabete? O affetto da trisomia 21, ovvero sindrome di Down? Non è necessario che la tua storia voglia parlare strettamente di una di queste caratteristiche o condizioni, a meno che tu non lo desideri, ovviamente. Ma è giusto prendere in considerazione questi elementi per creare una realtà quanto più vicina alla realtà. Non siamo tutti perfetti, qualsiasi cosa voglia dire. E soprattutto non siamo tutti uguali. Io, ad esempio, ho vissuto la prima metà della mia vita gravemente intollerante a latte, latticini e derivati. E vent'anni fa non esistevano tutte le opzioni con latte vegetale che, per fortuna, esistono ora. Penso anche a un personaggio celiaco, ad esempio. Potrebbe dover superare ostacoli molto più interessanti per raggiungere il suo obiettivo, al contrario di un personaggio, permettetemi il termine, qualsiasi. E lo stesso discorso vale anche per la rappresentazione di varie etnie con background culturali e folcloristici diversi. Ovviamente, se state lavorando a un fantasy o un film di fantascienza, avete ancora più libertà di lasciarvi ispirare a culture e società attuali e passate per crearne di nuove, o rappresentarne di antichissime che altrimenti andrebbero perdute. In ogni caso, aprirci a queste caratteristiche, anche non solo in scrittura, ma ad esempio in fase di casting, potrebbe nascondere delle piacevoli sorprese. Quando lavoravo al mio primo cortometraggio, Resilience, mentre scrivevo, ho sempre immaginato una ragazza dalla pelle perlacea e dai capelli ramati, tra i 20 e 25 anni. Al momento del casting, però, non ho dato alcuna indicazione estetica o etnica e per me è stata una bellissima esperienza. Ciò ha significato per me ricercare l'anima del mio personaggio durante le audizioni, non chi assomigliava di più ad una figura che avevo idealizzato. Ecco che per Resilience ho selezionato Silvia, una giovane attrice di 18 anni originaria di Puerto Rico dalla pelle olivastra e i capelli nero corvino. Con lei ho stretto un fortissimo legame ed essendo lei appena arrivata a New York, si sposava perfettamente con il mio tema di rappresentare la nostalgia di casa. Credo che, per chi si trova in una situazione privilegiata sia in termini di salute fisica, sia in termini sociali, sia ancora più importante creare un'arte inclusiva sotto quanti più aspetti. Uno strumento che amo per potersi appunto rendere conto di quanti personaggi maschili e femminili abbiamo scritto e con quali etnie o qualsiasi altro tipo di caratteristica è proprio una funzione di Final Draft. Per chi non lo conoscesse, Final Draft è il software ufficiale con cui vengono scritte le sceneggiature cinematografiche e con cui in realtà ho scritto anche questo podcast. Beh, su Final Draft hai la possibilità di estrapolare un file d'analisi che ti crea una tabella con rispettivamente il nome del tuo personaggio, l'età, il genere e l'etnia oltre ad eventuali note che puoi aggiungere liberamente. Da questa tabella puoi scegliere di creare automaticamente un grafico a torta per vedere chiaramente le percentuali dei personaggi della tua storia. Questo metodo è un grande aiuto per rendersi conto dell'equilibrio di ruoli, o meno. Ovviamente, se non possiedi Final Draft puoi tranquillamente ricreare una tabella simile e colorare di diversi colori le celle dei personaggi. Qualsiasi metodo tu scelga. Ti invito a riflettere su questo tema la prossima volta che guardi un film o scrivi un racconto per dar voce assieme alla tua anche all'anima di tanti altri. Se stai seguendo questo podcast su YouTube ti invito a lasciare un commento per condividere con noi le tue impressioni. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie per aver passato assieme questi minuti. Ti auguro buon viaggio e di creare con gentilezza.